oh hi sono eletta lamborghini in un tuerco da quattro giorni 7 ore 9 minuti e ho il covid e pangulo che scelto sono ripersa a casa questo mio caro non mi supporta più perché ovviamente non mi si può avvicinare a nessuno fino a poco fa ero twerking queen adesso sono covid queen che palle raga io sono sempre stata attentissima fin troppo ero quella che si vantava però ho sempre sempre grata a dio per la mia per tutti i miei post i miei test negativi e l'ho preso so da chi l'ho preso so da chi l'ho preso non devo essere incazzata purtroppo perché d'altronde c'è poco da fare sono anche stata molto attenta anche troppo l'ho preso fangulo non ha già fatto niente comunque ringrazio signore perché io sto veramente bene c'è gente invece che purtroppo è venita all'ospedale io invece sono qua che vabbè come potete notare sono pieni frazzoletti quindi al massimo mi moccica al naso mi tanto caccio un po di tosse però sto benissimo come potete notare vorrei poter tuercare ballare non lo faccio perché sto a letto sto tranquilla otto quello di cui mi serve sono semplicemente un po depresso detto ciò raga mettete la mascherina vi prego perché sennò poi lo prendiamo tutti vi prego non riusciamo più detto ciò peace and love peace and love qui c'è la covid queen e via i fazzoletti e vaffanculo il covid say what you wanna say to me now i wanna wake up with you in the morning show me the fake to me now i wanna wake up with you in the morning say what you wanna say ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti.